Salve, in questo video rispondo alla disamina del professor Pier Giorgio Di Freddi sull'essere, nella quale ha tirato in ballo anche Emanuele Severino. Cosa ha sostenuto il professor Di Freddi in quell'occasione? Che vi sono vari significati del verbo essere e varie sue costruzioni che non andrebbero confuse, andrebbero usate in modo preciso e invece Severino avrebbe usato, non solo Severino ma anche altri filosofi, avrebbero usato questi significati in modo ambiguo, confuso, non preciso. A ciò rispondo che, per quanto riguarda Severino, egli ha invece usato un significato ben specifico del concetto di essere, ovvero l'essere è il positivo che si distingue dal nulla assoluto, dal significato nulla assoluto. E quindi l'essere denota la piena determinatezza dell'essente, del significato, e quindi la sua totale coincidenza presso se stesso. Quindi l'essere è l'identità, è l'essersé di una cosa, e l'identità non come semplice uguaglianza, ma come coincidenza totale di qualcosa con se medesima. Quindi un soggetto che non avesse, che variasse anche solo una delle proprietà che lo compone, non sarebbe più se stesso, ma sarebbe qualcos'altro. Quindi la caratterizzazione del concetto di essere nel discorso di Severino è qualcosa di ben determinato e ben specifico. E lui ha mostrato che questo significato base, cioè l'essere come determinatezza, come significato che si distingue dal nulla assoluto, e che è iscritto nella struttura originaria, è qualcosa di imprescindibile, perché senza assumere questo significato base a un livello logico implicito, nessun digre, nessuna affermazione sarebbe determinata, perché non escluderebbe di equivalere a ogni altra cosa, e quindi è anche al nulla assoluto, ovvero alla totale insignificanza. Allora, non è che Severino non abbia definito il significato base del concetto di essere nel suo discorso e abbia usato varie sue costruzioni in modo ambiguo, confuso, eccetera. Ha usato quel significato base che ricorre in tutte le altre costruzioni. Ha mostrato che c'è questo significato base che è la condizione di possibilità di tutte le altre forme e di tutte le altre costruzioni del verbo essere, del concetto di essere. Il professore Di Freddi ha elencato varie forme, varie costruzioni diverse che si possono fare del verbo essere. Per esempio, il verbo essere può denotare la situazione di uguaglianza di due situazioni che ineriscono allo stesso soggetto, oppure può riguardare la relazione di appartenenza di un soggetto a una classe. Ma qualunque sia la costruzione a cui facciamo riferimento, ognuna di esse deve assumere che il soggetto sia identico a sé medesimo e può essere identico a sé medesimo solo se coincide con sé stesso e può essere coincidente con sé stesso solo se iscritto nella struttura originaria di opposizione universale del positivo e del negativo. Cosa stabilisce questa struttura? Che il principio di identità è in sintesi con quello di differenza, ovvero ogni cosa, ogni essente, ogni significato è sé stesso e differisce da tutti gli altri. E viceversa, differisce da tutti gli altri perché è sé stesso. Non è una semplice ricorsività tautologica. Severino fa notare che non si darebbe l'identità senza il suo differire e quindi senza tale determinatezza. E viceversa, non si darebbe la differenza se non rispetto a un'identità. Per cui non ci sarebbero né le identità né il loro differire se non stessero entrambi i tratti, la coincidenza, l'identità e il suo differire dalle altre, in una struttura di relazione originaria. Come dicevo, il soggetto è determinato se coincide con sé stesso. E ritenere che il soggetto abbia semplicemente delle proprietà senza che queste lo caratterizzino come identità significa assumere un'identità astratta e significa presupporre il divenire del mondo in senso nichilistico. Il rapporto tra soggetto e predicato per come è denotato nell'ontologia severiniana è sempre un'implicazione dell'eternità da lui dedotta, ovvero l'eternità da lui dedotta segue dall'opposizione del positivo e del negativo, ovvero siccome l'essere non significa nulla non potrà mai significarlo e qualunque forma di divenire implicherebbe a un certo punto quella coincidenza impossibile. Per cui Severino è arrivato a prospettare una forma di eternità particolare ovvero un eternalismo radicale di tutti gli aspetti della realtà. la realtà è come se fosse un insieme di configurazioni eterne ma non nel senso della sempiternità cioè non nel senso che tutte le configurazioni esistano nel tempo ma che ogni configurazione esista sempre atemporalmente quindi, tra virgolette, prima, durante e dopo il suo apparire nella nostra prospettiva coscienziale e quindi da una parte Severino giustifica l'eternità ma in modo tale da conciliarsi con l'esperienza che abbiamo ovvero noi esperiamo un mondo che varia sempre da un istante all'altro appaiono sempre delle variazioni fenomenologiche del mondo questa situazione non è negata da Severino non è che Severino affermi una sorta di eternità statica nel tempo a tal punto da non avere poi più un tempo ma afferma una eternità atemporale e quindi il mondo non sarebbe da intendere come il trasformarsi delle cose in altro e quindi il circoscrivere la realtà solo nella situazione presente ma l'apparire di stati eterni del mondo che esistono sempre anche in una dimensione ulteriore alla nostra che è detta apparire infinito ora se tutto è eterno allora devono essere eterne anche le sintesi del rapporto tra soggetto e praticato devono essere eterne tutte le determinazioni tutte le connessioni perché anche esse sono degli essenti tutto ciò che in qualche modo ha un carattere determinato e non è un nulla assoluto che non esiste e non ha alcuna determinatezza è appunto qualcosa non c'è un'altra alternativa possibile o si è qualcosa nella misura in cui appunto si ha anche una minima determinatezza oppure non si è affatto ma non è possibile nel medesimo rispetto simultaneamente né essere e né non essere ma questo non perché si presupponga l'inviolabilità del principio di non contraddizione ma perché si prospetterebbe una situazione autonegantesi dove la situazione non sarebbe determinatamente quella che sarebbe prospettata e quindi non sarebbe affatto ora se tutto è eterno allora deve essere come dicevo eterna anche la sintesi tra soggetto e predicato e questo vuol dire che allora il soggetto non può essere se stesso indipendentemente dalle caratteristiche che ha dalle proprietà dalle determinazioni che lo caratterizzano e lo riguardano l'idea di un soggetto come sostanza indeterminata come substrato tra l'altro non risolve il problema perché anche ammesso e non concesso che fosse un substrato indeterminato al di sotto degli attributi delle cose anche la sintesi tra il sostrato le determinazioni sarebbe un essente che in una realtà non eternalistica sarebbe soggetto a divenire anichilistico siccome il divenire anichilistico è escluso da Severino in quanto è impossibile è una situazione autonegantesi allora Severino ha dedotto anche tutte le altre implicazioni di questo fatto tra cui il fatto che il soggetto non possa essere ritenuto indipendente dagli attributi che lo riguardano e che debba essere in sintesi originaria con loro per cui ogni relazione predicativa deve essere anche una relazione di identità innanzitutto e quindi ogni soggetto che ha una certa caratteristica non sarebbe se stesso se non l'avesse quando noi non lo so pensiamo alla maglia azzurra la maglia azzurra di cui parliamo è quella specifica insieme di caratteri è quella precisa configurazione lì non potrebbe essere se stessa se anziché essere azzurra fosse gialla e severino fa notare che l'identità è implicata a un livello sottointeso o almeno dovrebbe essere implicata in ogni uso del verbo essere e comunque il significato base del verbo essere del concetto di essere è di opposizione al nulla se mancasse questo significato base in tutti gli altri usi nessun uso sarebbe corretto perché nessun uso sarebbe posto come determinato il concetto di identità che è l'essersé di ogni cosa è talmente radicale da venire prima tra virgolette di tutte le regole logiche di inferenza di tutte le definizioni di tutti i sistemi e le loro strutturazioni è la loro condizione di possibilità infatti se non si assumesse innanzitutto che ogni regola di inferenza è quel che è e non altro che significhi ciò che è e non altro non avrebbe alcun significato e valore così come ciò che ne dovrebbe conseguire dal suo uso tuttavia è anche vero che la semplice opposizione non può venire davvero come struttura originaria prima di queste regole semplicemente le regole di inferenza necessarie per strutturare gli argomenti logici atti a mostrare questa necessità e l'opposizione sono parti di un'unica struttura che è appunto quella originaria non ci sarebbe il principio di opposizione e la sua valenza di incontrovertibilità senza gli argomenti e le loro regole atti appunto a mostrare ciò e non ci sarebbe possibilità di strutturare argomentazioni logiche senza assumere l'identità determinata a livello sintattico e semantico di tutti gli elementi costituenti una strutturazione logica e argomentativa quindi quel che ha mostrato Severino è che il concetto di essere implica il concetto di identità nella forma della determinatezza che non può aversi al di fuori dell'opposizione quindi ogni cosa è se stessa non indipendentemente dal suo differire dalle altre di conseguenza ogni soggetto è se stesso perché è determinatamente in rapporto a determinati predicati e ogni predicato è se stesso perché è in quello specifico rapporto con quelle determinazioni in una realtà eterna come quella prospettata da Severino questa sarebbe una delle implicazioni logiche in una realtà eternalistica in senso radicale anche la sintesi tra il soggetto e il predicato sarebbe un essente eterno e quindi dovrebbe esistere sempre atemporalmente e l'unico modo per esistere in questo modo è che sia necessariamente eterno non potrebbe essere contingente e prodursi in maniera contingente casuale ad un certo punto perché questo implicherebbe la produzione nichilistica di aspetti e di determinazioni che prima non vi erano e questo passaggio Severino ha mostrato essere impossibile perché implicherebbe di nuovo una forma di passaggio nichilistico dall'essere al non essere e viceversa nel caso specifico implicherebbe un'identificazione del non essere della sintesi tra soggetto e predicato quindi la concezione particolare di identità anche nel rapporto predicativo che Severino ha illustrato segue dal suo discorso segue dalle implicazioni dell'eternità di tutti gli essenti quindi il soggetto è assieme al predicato e va anche specificato che è assieme al predicato appunto perché il soggetto in quanto soggetto non esiste così come il predicato in quanto predicato non esiste separatamente dal soggetto quello che Severino tra le varie cose ha criticato al pensiero comune ordinario della realtà e di questi aspetti è l'idea della separatezza di queste varie parti e l'idea che il soggetto possa esistere indipendentemente dai caratteri che lo riguardano e anche per loro idem Severino ha spiegato che questa concezione isolante astrae le parti dal tutto a cui appartengono inoltre Severino ha mostrato che appunto anche nella relazione semplicemente di appartenenza di un soggetto a una classe si dovrebbe assumere una forma di identità tra soggetto e predicato ma non una forma di identità come mera coincidenza tra un soggetto ritenuto separato dalle sue caratteristiche e viceversa e neanche come mera uguaglianza tra soggetto e predicato ma come sintesi nella quale il soggetto e il predicato sono una unità una struttura originaria al di fuori della quale non vi sarebbe nel soggetto né i suoi predicati e solo all'interno della quale vi è il soggetto che è l'insieme dei suoi predicati il soggetto come insieme dei suoi predicati è per questo quindi che Severino per questo e per i motivi di prima che Severino arriva a dire che ad esempio un albero l'albero l'albero verde non è lo stesso albero con le foglie appassive perché appunto quelle caratteristiche dell'albero riguardano quelle specifiche configurazioni dell'albero che non sono quelle del tra virgolette stesso albero con le foglie appassive come interpreta l'ontologia di Severino uno stesso albero tra virgolette nel tempo che mostra caratteristiche diverse di se stesso come un insieme eterno e immutabile di diverse configurazioni a loro volta eterne nessuna delle quali si produce o si annulla nichilisticamente e o diviene altro da sé trasformandosi nelle altre ognuna rimane sempre se stessa quindi le configurazioni dell'albero nella sua forma verde non sono le configurazioni dell'albero con le foglie secche appassite e l'albero totale l'albero x totale è l'insieme di tutte quelle diverse configurazioni ecco come quindi interpreta l'ontologia di Severino gli enti della nostra esperienza non come oggetti unitari che subiscono variazioni nel tempo ma come un insieme determinato eterno immutabile di configurazioni appunto eterne e immutabili in questo modo si giustifica come dicevo all'inizio del video sia l'eternità degli aspetti del mondo sia il variare dei contenuti che appaiono nella nostra esperienza bene quindi in definitiva ho provato a spiegare che Severino non abbia confuso i vari usi che si possono fare del concetto di essere che abbia mostrato un significato base necessario universale che dovrebbe essere riconosciuto in ogni discorso ovvero che l'essere è iscritto in una struttura di opposizione e si distingue dal nulla assoluto che senza questo significato base manca la determinatezza stessa e che anche nelle relazioni predicative di qualunque tipo si debba assumere una forma di identità tra soggetto e predicato che però non può essere una mera coincidenza tra un soggetto ritenuto separato dal predicato o una semplice forma di uguaglianza ma deve essere l'identità dello stare insieme del soggetto con il predicato e dello stare insieme del predicato con il soggetto in una forma quindi di autoriflessività cosciente dove l'identità appare in una struttura coscienziale cosciente Grazie.